cinque chi l'avrebbe mai pensato trovamo una stradetta tra gli alberi vedemmo che si apriva in una piazzetta erbosa e ci sistemammo nei sacchi a pelo all'interno del camper io e mia moglie da una parte nostra figlia marta dall'altra ci addormentammo quasi subito stanchi per due giorni di guida in alta montagna mi svegliai per le grida di mia moglie che vidi con la torcia accesa mentre tratteneva marta che si divincolava per uscire dal sacco a pelo nostra figlia era fortemente disabile a differenza di mia moglie da molto tempo ormai avevo smesso di agitarmi per le situazioni in cui ci metteva di continuo la malattia di nostra figlia non appena il tremito di mia moglie cessò mormorai ha avuto un incubo non ti preoccupare è già passato con le mascelle ancora irrigidite mia moglie disse anzando deve avere fatto un brutto sogno da un po di tempo le prende così sì ma adesso sta bene tutto è finito che cosa significa che tutto è finito disse mia moglie non fingiamo come al solito nostra figlia è malata e la possiamo perdere in ogni momento dammi un po d'acqua per favore frugai alla ricerca della bottiglia d'acqua perché l'impianto elettrico si era rotto e non avevamo il frigo la torcia proiettava lunghe ombre cavernose sulle pareti del camper cavernose come la nostra vita con nostra figlia marta e anche cavernose come la sua di vita da quando marta era nata io avevo preso l'abitudine di visitare i cimiteri spesso con mia moglie mi fermavo davanti alle grandi tombe e con voce sognante dicevo a mia moglie pensa giusi molta di questa gente era sana ed è morta giovane e nostra figlia marta continua a vegetare la vita a me e a mia moglie dopo la nascita di marta ci appariva troppo faticosa e completamente priva di senso chi avrebbe mai pensato che invece commento spiriti narranti attraverso c ballardini e p filippini entità paola che in vita aveva avuto un grave handicap non fatevi idee sbagliate io non fu infelice in quella vita scelsi un percorso breve difficile perché era ciò che in quel momento serviva alla mia evoluzione ma ciò che voi non sapete e che io ero altamente consapevole di me il fatto di non comunicare totalmente con voi non significava che fossi assente anzi io ero presente in altro modo non avevo le capacità che voi ritenete normali ma ne avevo altre che vi stupirebbero io ero in grado di comprendere molto più di quanto voi possiate immaginare per me è stata un'esperienza molto importante ed io ero piena di gioia so che vi può apparire inconsueto quasi impossibile ma io ero nelle condizioni ideali per svolgere il mio compito e il mio compito in quel momento era l'amore io ero immersa nell'amore quello che ricevevo che suscitavo negli altri e quello che davo che distribuivo intorno a me tutte le attenzioni che ricevevo erano per me felicità ed io ricambiavo inondando d'amore tutti coloro che intorno a me mi accudivano e mi amavano anche se la loro tenerezza era adombrata da una compassione assolutamente fuori luogo ma questo è tipico di coloro che non hanno consapevolezza e credono che solo la banalità sia normalità e fonte di gioia io avevo scelto un percorso diverso escludendo automaticamente tutte quelle cose considerate normali e fonte di gioia nella vita assolutamente necessarie per trovare felicità quale errore quale miopia la felicità arriva dallo scambio di amore ed io ne ricevevo e ne distribuivo in abbondanza quanto amore intorno a me quanta gioia in me io sono stata felice e ancor più sapendo che ho portato avanti il mio compito io sono stata veicolo d'amore fonte di insegnamento e di riflessione per tutti coloro che ho incontrato nessuno si è avvicinato a me superficialmente ma sempre con pensieri profondi e riflessioni sulla vita e sulla morte che forse non avrebbe mai fatto così senza comunicare so di aver insegnato tanto e di aver unito persone che si sono incontrate in me a causa del mio destino e delle condizioni bisaggiate del mio corpo e in seguito a questo sono cresciute in consapevolezza e amore io ero partecipe di quell'amore io lo sentivo in me palpabile quasi perché ero circondata da un'energia che nutriva la mia anima e mi rendeva felice io so di avere portato amore e di avere contribuito alla crescita di coloro che mi hanno incontrata nella mia breve vita ho raggiunto due traguardi importanti aiutare chi incontravo e assolvere il mio impegno carmico chi può dire di aver fatto la stessa cosa alla fine di una vita normale perciò non dovete più pensare a me come la povera paola ma ricordatevi di me come una luce che è apparsa nella vostra vita per insegnarvi l'amore poiché questo era il mio compito ora sono per voi un raggio di luce un ricordo luminoso del vostro contatto con un compito divino così nascosto ma così potente sappiate che io sono molto felice ora so di aver fatto un buon lavoro e ora godo della compagnia di tante persone care ma non pensate a me così come ero dentro al corpo fisico io ora un corpo di luce un corpo sano perfetto di cui sono veramente fiera perciò non siate tristi e immaginatemi come sono veramente alta bella luminosa e felice paola perciò non siate tristi e immaginatemi come sono veramente a me così come siate a me così come